costa, il quale cessa dalla carica di Vice Ministro e di Sottosegretario di Stato presso il Ministero della Giustizia. Comunico che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inviato in data 29 gennaio scorso la seguente lettera, informo la Signoria vostra del Presidente della Repubblica con proprio decreto in dato dirna, adottato su mia proposta, sentito il Consiglio dei Ministri e ha nominato i seguenti Sottosegretari di Stato. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Tommaso Nannicini, per gli affari esteri della cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola, per la giustizia Federica Chiavaroli e Gennaro Migliore, per lo sviluppo economico Teresa Bellanova, la quale cessa dalla carica di Sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali, e il Senatore Antonio Gentile. Per le infrastrutture e i trasporti, la senatrice dottoressa Simona Vicari, la quale cessa dalla la carica di Sottosegretario allo sviluppo economico. Per i beni e le attività culturali e il turismo, l'onorevole dottoressa Dorina Bianchi e l'onorevole dottor Antimo Cesaro. Comunico che la Presidenta della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema di accoglienza, identificazione e trattenimento dei migranti, il deputato Gaetano Piepoli, in sostituzione del deputato Mario Marazziti, dimissionario. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge già approvata dal Senato numero 3297, modifica dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, numero 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali e delle abbinate proposte di legge numero 1278, 3354, 3359. Avverto che lo schema recante della ripartizione dei tempi è pubblicato in carcere a vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Il Presidente del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle ha chiesto l'ampliamento, la Commissione Affari Costituzionali si intende autorizzare a riferire oralmente, a facoltà di intervenire il relatore Presidente della Commissione Affari Costituzionali, deputato Andrea Mazziotti di Celso. Prego. Grazie.